Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, è terminata la partita, la Dacia Arena è terminata con il risultato di 1-1 tra Udinese e Ellas Verona Partita, a mio avviso, abbastanza piacevole Principalmente, a mio avviso, nel primo tempo Perché poi comunque nel secondo tempo c'è stato un calo fisico principalmente dell'Udinese Però mi sento di dire che nonostante questo l'Udinese avrebbe meritato di portarsi a casa i tre punti Perché è stata lei, la squadra che ha fatto la partita Ellas ha cercato di difendere bene, di ripartire Era stata fortunata a trovare quel gol su tiro di Lazovic, deviato da Becao Molto fortunato È il tipico gol che mi manda in bestia quando in una schedina che gioco metto gol e non escio Questo è il tipico gol che vorrei in quei momenti Quindi era stata fortunata lì, però poi è venuta fuori la qualità dell'Udinese Mi sento di dire una cosa, sull'Udinese Io non concordo l'accessione di Mack'n'Go Secondo me il Mack'n'Go è un giocatore interessante, un giocatore di una certa fisicità E secondo me il Lorient, per questa cifra Perché si parla di poco più di 10 milioni Porta a casa un giocatore importante Ed è un peccato a mio avviso che vada via dal campionato italiano così presto Anche perché a mio avviso l'Udinese avrebbe potuto magari nel giro di 2-3 anni Guadagnare cifre più alte Però questa è stata la decisione dell'Udinese Della dirigenza dell'Udinese Quindi sicuramente va rispettata Ok, però personalmente non la condivido Lo ritengo veramente un gran bel colpo per Lorient Detto ciò, nonostante alcune assenze importanti di Olofeo e Tukupereira su tutti Io credo che oggi l'Udinese veramente abbia creato tanto Il fatto che non è riuscita a realizzare A finalizzare Io ragazzi avevo già parlato di un giocatore che è Samarzic Un giocatore che lo ritengo veramente interessante Un giocatore che ha 20 anni È un classe 2002 È un giocatore veramente veramente da visionare Io credo che debbano riuscire a soltare un po' di più le sue qualità al tiro Perché secondo me è un giocatore che Non dico già quest'anno Ma crescendo e migliorando Mettendolo al centro diciamo del gioco, del progetto Possa regalare tante soddisfazioni Possa tranquillamente arrivare alla doppia cifra Poi si intestardisce un po', ma è ancora giovane Ci può stare Cerca magari qualche giocata un po' troppo di fino Un po' troppo leziosa Mi viene in mente quando ad esempio Aveva saltato l'avversario e poi ha provato Di nuovo Un altro dribbling invece che scaricare il pallone Quindi Non è assolutamente perfetto Va migliorato Però questo è uno dei prospetti secondo me più interessanti Nel panorama europeo della sua età Io batto tanto su questo punto E per me deve essere un titolare Assolutamente inamovibile di questa squadra E a mio avviso l'assenza ovviamente di De Lofeu e Pereira incide tanto De Lofeu purtroppo sappiamo che incidono tanto Sappiamo che De Lofeu è un giocatore purtroppo Io ragazzi ho sempre amato De Lofeu Quando era al Barca Quando era all'Everton Quando era andato al Milan Però è un giocatore che è sempre stato purtroppo Limitato dai suoi infortuni E il Tucu Speriamo si riprenda in fretta Uno perché c'è l'alfantacalcio Pupillo E due perché è veramente un giocatore che All'Udinese manca Manca tanto E che crea E che crea tanto E un giocatore così Magari in una partita come oggi In cui Non si riescono Non si riesce a sbloccare Questo risultato Poteva sicuramente far comodo Anzi avrebbe fatto sicuramente Molto molto comodo Quindi sono d'accordo con le parole di Sottil A fine partita Per quanto riguarda la prossima partita Giocherà col Torino Una partita sicuramente interessante Ovviamente a mio avviso Non è una partita decisiva E per me fa molto bene L'Udinese a pensare La partita per partita Cioè c'è poco da stare Da stare a dire Mi è piaciuto anche Beto Ragazzi a me piace come Beto E l'ho già detto Come Beto difende la palla Come Come gioca anche per la squadra Secondo me è un bel giocatore Io lo continuo a ripetere in ogni video Io è il tipico giocatore Che vorrei vedere in una squadra Con obiettivi ben più alti Ad esempio Io in una Fiorentina Per dire Una squadra che dovrebbe lottare per l'Europa Non lo fa Ma è una squadra che dovrebbe lottare Per un posto in Europa League Io lo vedrei benissimo Un giocatore così Quindi Anche oggi Gli ho visto fare delle belle cose Gli è mancato Gli è mancato il gol Però Ha lavorato Ha lavorato tanto per la squadra Che dire invece sull'Ellas Sull'Ellas ragazzi Ripeto Oggi Ha sbloccato la partita così In maniera fortuita E quelle due Barra tre occasioni Che ha avuto Sono state Più o meno Tutte Tutte fortuite Cioè Comunque Non create Da chissà quale Da chissà quale Grandi azioni O O manovre Ha cercato di difendersi Di ripartire L'unica azione Forse creata Bene È stata quella Del nuovo Del nuovo Arrivato Dal Dal Groningen Sirilingong Che è un classe 2000 Quella è stata un'azione Che mi è piaciuta Però ripeto Anche l'occasione Che ha avuto poi Lasagna Con la palla Che quasi stava Insaccandosi È stata un'azione Un'azione casuale Onestamente Onestamente mi aspettavo Un po' di più Dall'Ellas Dal punto di vista Offensivo Poi io ripeto Mi aspetto sempre tanto Da un giocatore Come Lasagna L'ho già detto Anche in passato Non è un giocatore Freddo Magari davanti alla porta Però è un giocatore Che può trascinare Può e deve trascinare Questo Questo Ellas Che con tutti i limiti De ha Che tutti i limiti Che ha Deve trovare lui A mio avviso Il giocatore più importante Quello che onestamente Io non capisco Signori È perché Simone Verdi Non debba Non debba giocare È vero che Viene da un infortunio Però comunque Da quando è all'Ellas Di minutaggio Non è che Ne ha collezionato Tanto Quindi Non lo so Secondo me Un giocatore come lui È un giocatore che Deve Deve trovare Molto più spazio Cioè Se sta bene Se fa una stagione Ad esempio come quella Dell'anno scorso A Salerno È un giocatore Veramente importante E E poi E poi vabbè L'Ellas Deve Deve cercare Di essere più Creativo Lì davanti Senza dubbio E poi Quando riesce a creare Essere più cinico Perché se no Fa veramente fatica Anche perché Comunque Oggi aveva Una possibilità Importante Di Accorciare Visti comunque I risultati Delle 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 Avversarie Ad esempio Lo Spezia Che ha perso Col Bologna Quindi Non ce l'ha fatta Per carità Andare a Udino Non è un capo facile Però 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 Mi sarei aspettato Qualcosa Proprio in più Come atteggiamento Di per sé Cioè L'ho vista Veramente Troppo Difensivista E E niente Ragazzi Comunque Assolutamente Tutto Aperto E ha 5 punti Dallo Spezia E 7 Dal Sassuolo Quindi E Lecce Quindi Sicuramente Campionato E luco Può succedere Ancora di tutto Però Mi aspettavo Un qualcosina Sicuramente In più Ultima Cosa Prima di chiudere Fatta per Toven All'Udinese È un giocatore Ragazzi Io l'ho visto Giocare tanto Il Ligan È un giocatore Che le qualità Le ha Purtroppo La testa A mio avviso Non gli ha fatto esprimere Più delle volte Quello che È Questo Questo giocatore Spero Lo possa fare A Udine E per l'Udinese Sarebbe veramente Importante Visto L'assenza Del buon Deulofeu Vedremo Vedremo Sono molto Curioso E Niente Ragazzi Io Vi do appuntamento Domani Domani Potrei fare un video Sul Sulla Juventus Sul 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 Discorso Delle motivazioni Che oggi sono state pubblicate Ho preferito aspettare uno Perché volevo fare il video Sopra Questa partita E poi perché Comunque volevo documentarmi Ancora un po' di più Ma vi dico già Che a me il comunicato Che ha fatto oggi la Juventus È Piaciuto Tanto Detto ciò Vi vado fort'abbraccio Vito a iscrivervi al canale E ultima cosa Complimenti ai tifosi dell'Ellas Mi è piaciuto tanto Come hanno incitato la squadra Quindi Vabbè Loro sono un pubblico caldo Con pregi e difetti Va benissimo Però Mi è piaciuto Mi è piaciuto Vedervi Comunque Incitare la squadra Perché non è Facile Ovviamente Per la posizione in classifica Che ha l'Ellas Viste le ultime stagioni Che aveva fatto Assolutamente Un forte abbraccio Iscrivetevi al canale Difondete il verbo E ci vediamo Domani Ciao